Ha aspettato il ruolo che gli competerà, quindi sicuramente dovrà coprire il ruolo di cambio di Luca, partire da una panchina e darci più energia possibile e allungare la nostra rotazione. Credo che abbia tutte le caratteristiche sia umane, in quanto abbiamo preso molte referenze, sia tecniche per allungare la rotazione e per cercare di raggiungere l'ennesimo obiettivo di quest'anno. A voi domani. Marco, qual è la tua sensazione di essere qui? Sono felice di essere qui, è stato un lungo giorno, con il viaggio e ovviamente ho avuto un po' di cose che ho avuto. Sono molto felice di essere qui, è stata una grande opportunità per me. Ovviamente il club ha avuto un po' di essere qui e voglio essere qui e voglio essere un po' di essere in addition. Do you know l'Italia un po' a little about l'Italia? No, no, I know nothing, I know nothing, I just know... Buongiorno... Ciao! Grazie, traduce un po' tuo? E l'Italia lo conosce poco, buongiorno. Ciao!